L'evento organizzato dall'Ordine di Bologna e dall'amico Pietro Giordanella è veramente un evento molto importante dove ha raccolto una serie di professionisti con delle esperienze nazionali e internazionali che ci permettono veramente di aderire a quella che è l'evidenza e di conseguenza di poter applicarla anche nella pratica clinica. Noi infermieri non possiamo che essere aderenti alla scienza, purtroppo la politica non deve intromettersi. Noi abbiamo avuto anche ministri che in passato hanno detto che vaccinare i bambini era una roba che non andava bene. Non si possono permettere di fare queste affermazioni. Noi come professionisti sanitari che crediamo nelle cure e nella scienza aderiamo come ha fatto la Presidente nazionale oggi a questo patto perché credo che sia fondamentale. La firma simbolica, l'adesione di 450.000 infermieri a questo manifesto è senza ombra di dubbio una risposta fondamentale da dare ai cittadini e alla politica del nostro Paese. Credo che tutte le 19 classi di lauree delle altre professioni sanitarie debbano aderire a questa tipologia di manifesto.